ormai io sono avvelito con tutti questi pareggi non posso gridare che qua veramente ma sennò mia moglie chiama cosa i carabinieri chiamano ma cosa di picchiare proprio sta parrucca di pagliaccio stavolta veramente metterci la la a mister bini cacosi vedrà così 4 mentre da questo mister bini mentre cose guarda io sono mister bini e mi piace pareggiare dobbiamo portare la partita dalla nostra parte dobbiamo pareggiare ripeto in moto di motta in moto della juventus nuovo e questo pareggiare non è importante è l'unica cosa che motta ma veniamo atti ma come si fa come si fa otto pareggi otto pareggi giampaolo nel secondo tempo t'ha messo le palle in faccia e cari fratelli juventini voi mi direte imparare primo tempo la sfiga e nove infortuni che abbiamo e i pali e i pali no uno prima durammo la proprio non so pinocchio forse via i peri più dritti guarda mamma mia ma come si fa turammo da tu per tu sbagliare e picchiare sto paolo e con se sa magari si può di con se sa oggi è cambiato semi migliore in campo se non si illumina di due ragazzi sta juve veramente schifosa guarda peggio di allegri questa juve è peggio di allegri l'ammetto io io l'odiavo allegri perché stavo in difesa ma stavo ragazzi noi non ma stiamo scherzando veramente molto ma che ti è successo guarda non lo so che a bologna non faceva sei figuraccia attenzione ma tutto a noi ci capitano tutto a noi ci capitano ma che abbiamo fatto di male per meritarci tutto questo chi fu qua i nuovi scudetti consecutive hanno dato fastidio forse non che io veramente infortuni sfiga dei pali ma poi il rigore io non mi attacca sti cose ma ricordi cilano vabbè ma involontario ma qual è involontario capallo la sto paolo ma qual è involontario ma ha detto questo guarda non voglio manco piangere guarda è proprio che nel secondo tempo alla fine fu sfiga non ci fu sfiga beh più di nuovo infortuni e poi e poi nel secondo tempo già ballo già ballo già ballo o lecce che quest'anno veramente si vuole ci sarebbe va il lecce l'usore l'uviento l'umare l'usore l'uviento l'umare ma questo lecce guarda onesto tiro la c'era gallo accenno campo che ci fico sombrero anche a locatelli mamma mi tristino locatelli non è cosa manca da serie b come su gallo che giocatori da serie b come le locatelli ci fico sombrero capito mamma che vergogno io 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 avrei una vergogna per locatelli guarda comunque ragazzi sempre la siamo ti ta 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 ti ta 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 flippe ping 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 cupo me che se il contesto a condizionato in attacco poi non non riescono a fare sempre l'ultimo passaggio non c'è nessuno che la mette dentro e su tutti i giovani ragazzi il lavoro che era sempre isolato la cupo me che sanzi tutti la rive ma gruppo me che se l'oggetto misterioso ne è quello dell'atalante con cesa o io va solo poverino la l'unico che devo avere ripeto si deve illuminare con cesa o e cambiasse se non si illumina quei due non c'è un cazzo da fare ragazzi ma come si fa e poi fanno perdere le bollette capito io avevo da uno dei Wenzu aspettato due fiste e poi tutto ragazzeccato fate capire sfica io sono come io Wenzu ma sfigato guarda comunque pare alla fine in Lecce guarda per me meritavo per il secondo tempo perché nel secondo tempo guarda ringrazio a Sanperin Sanperin che fece prima un volo d'angelo ma poi fece 5 tiri e fece 5 parate guarda veramente il Lecce ti ha bersagliato proprio ti ha messo sotto come un carro armato come un trattore mi ho detto mamma c'è io veramente ragazzi all'ottantasettesimo ancora la partita ormai è una partita finuta però mi ha meritato il pareggio comunque veramente sono sono amareggiato schifato veramente ma basta basta questi pareggi basta ma sennò mi ammazzo guarda una cosa etica da pepe che a me mi viene magari non capisco manco manco finito a parlare poi guarda l'epilessia la mia a mia mi viene l'epilessia guarda l'epilessia chi è epilettico io sono epilettico io sono epilettico capito a mia vero mi viene l'epilessia guarda ma facci la verità che sono molto epilessia guarda che sono veramente ma poi ripeto c'è una fine leva concessa leva concessa fagioli che puoi guardare che sono fagioli si tu non mi ha fatto schifo capito però almeno c'è no come uno poco teniva anche se sbagliava ma chi metta fagioli quello leva gatti chilo tu chilo la danilo pensionato ancora la che ci fa o fallo sta venendo il tuo ragazzo l'attaccante due lecce era più veloce ma veramente ma quanti sbagli non ci stai capendo più un cazzo motta non ci stai piegando più un cazzo guarda stai facendo veramente peggio da lei guarda stami delle allegri anni tutte contente ha visto te l'avevo detto che boh che boh io sono stancato da giovento ho dato avevi tre anni che ho dovuto sempre aspettare a acciuchino guarda per vincere un mese lo scudetto io stai facendo non devo aspettare a sto mister bin però veramente veramente schifo ma schifo schifo che gioco proprio un gioco lento un gioco non c'è non c'è un cazzo nella verticalizzazione non c'è niente ragazzi che c'è sta perché c'è questa palla sta palla da contestare la palla l'intero cupo me che se gatti gatti turama turama lo cade lo cade per la palla non si capiva veramente ma rivedo se non c'era oggi se non c'era oggi il portiere oggi l'avevo penso poteva perdere anche tre o quattro a una oggi dobbiamo ringraziare veramente che può collocare penso sia tirato cambia insomma un gol fu deviata da dare maggio la gasparre la gasparre e mi sono detto amica gasparre hanno poco di oro ma quale oro che due incenso e mirra in anno vale manco mir è un incenso poi c'è buttato fumo è stato quel gol proprio una specie di fumata e poi alla fine pareggia l'utine 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 comunque altro pareggio sono stanco di questi pareggi basta con questi pareggi non non ne sopporto più non ci fu niente da fare ha detto partita complicata e complicata doveva essere ma fatte schifare tu morta e tutto l'antico in mangi e nemmeno in cazzo ragazzi dite in cazzo guarda posso gridare che case si svegliano perché se grido a mia moglie che ama polizia carabiniera o manicomio volte c'ha ragione capito c'ha ragione la manicomio volte c'ho rinchiudere che su camista ebbino manicomio saluto ripeto finisca il mio video pareggiare non è importante è l'unica cosa che è morta fumere